Sono Giovanni Arioli, sono il direttore della struttura di reabilitazione specialistica in reumatologia dell'azienda ospedaliera ASST di Mantua, regione Lombardia. Mi occupo di gestione della disabilità in ambito reumatologico e il mio compito è quello di ridurre per quanto è possibile, ma più che ridurre, di prevenire per quanto è possibile la disabilità in ambito reumatologico. Questo è un aspetto particolare perché in effetti la reabilitazione in ambito reumatologico è una reabilitazione che richiede un'attenzione particolare verso questi pazienti perché è necessario gestire la patologia già nella fase iniziale, quindi in una fase in cui possiamo intervenire e prevenire il danno che ne può derivare dalla patologia in cui il paziente è affetto e è fondamentale che ci sia un'attenzione da parte del reumatologo e anche del reabilitatore per limitare per quanto è possibile i danni che ne possono derivare, che possono condizionare la vita di questo paziente. Quando parliamo di contenimento, ma soprattutto di prevenzione della disabilità, in particolare ci riferiamo ad alcune patologie che sono gravemente disabilitanti e parliamo dell'artrite reumatoide, ma dobbiamo considerare anche altre patologie come le spondilite anchilosante, parliamo dell'artrite psoriasica, parliamo delle connettività sistemiche come ad esempio la sclerodermia e il lupo sultimatoso sistemico. Quando parliamo dell'artrite reumatoide, dobbiamo considerare che il paziente già nelle fasi early, cioè delle fasi precoci, di esordio della malattia, presenta una disabilità che è determinata dalla componente algica, vuol dire dal dolore che questo paziente ha e che gli impedisce di svolgere quotidianamente la propria attività. Già nella fase early, noi abbiamo una situazione di limitazione dell'attività fisica e questa limitazione deve essere trattata e controllata e verificata durante l'evoluzione della malattia. In questa fase noi dobbiamo intervenire precocemente attraverso un programma che consiste in un trattamento farmacologico e in un trattamento di tipo riabilitativo che deve mantenere la mobilità e che deve controllare la funzione del soggetto per evitare la situazione di disabilità a cui può andare incontro. Quindi è importante l'attività quotidiana attraverso l'esecuzione di esercizi che vengono proposti al paziente, in particolare per quanto riguarda la mobilizzazione delle mani, dell'articolazione dell'arto superiore e soprattutto il mantenere l'autonomia anche per quanto riguarda la mobilità. Per quanto riguarda invece un'altra patologia che è altamente disabilitante come la spondilite anchilosante, dobbiamo considerare alcuni aspetti particolari che sono il mantenimento dell'autonomia del soggetto per quanto riguarda le esecuzioni di attività che richiedono una funzione ottimale per quanto riguarda la colonna vertebrale e questi soggetti devono essere educati a mantenere la funzione articolare della colonna per quanto riguarda l'estensione, quindi mantenere posture corrette, eseguire quotidianamente posture, parliamo della postura sfinge che permette di estendere praticamente la colonna e in questo senso dobbiamo mantenere l'autonomia del soggetto che purtroppo viene deteriorata e viene comunque limitata già nelle fasi iniziali della malattia. Questo è un aspetto particolare, quindi quando parliamo di limitazione, di prevenzione della disabilità dobbiamo considerare l'importanza di una diagnosi precoce e soprattutto l'importanza di un trattamento precoce perché solo trattando precocemente queste patologie noi riusciamo a mantenere l'autonomia e quindi a migliorare la qualità della vita del nostro paziente. L'importanza del trattamento precoce, l'importanza del trattamento in associazione con il trattamento farmacologico quindi la fondamentale è la diagnosi precoce e il trattamento precoce, questa è la cosa fondamentale per mantenere l'autonomia altrimenti rischiamo di non avere un'autonomia perché il paziente magari ha saltato qualche passaggio il passaggio non solo quello farmacologico ma anche quello del trattamento riabilitativo e questa è una cosa fondamentale. Per quanto riguarda l'organizzazione dell'attività che si riferisce al miglioramento della qualità dell'assistenziale che noi proponiamo ai nostri pazienti, ritengo che il miglioramento possa essere visto in un trattamento sequenziale che ripeto non è solo quello farmacologico ma quello ovviamente anche di tipo riabilitativo e soprattutto è importante l'organizzazione di attività che rientrano in un programma, parlo di un programma ben più ampio di quello che noi possiamo avere nel nostro centro ma un programma che viene chiamata rete assistenziale in cui è possibile gestire questi pazienti attraverso un percorso ben definito, un percorso ben definito che permette al paziente di poter essere seguiti nel tempo riducendo per quanto possibile la tempistica che a volte intercorre tra un controllo e l'altro e fare in modo che questo paziente venga gestito in modo adeguato per contenere per quanto è possibile ovviamente la disabilità di questo soggetto. Quando parliamo di rete assistenziale, rete reumatologica assistenziale che attualmente in Italia hanno soltanto alcune regioni parliamo di un sistema ben organizzato che permette di gestire il paziente in una situazione di continua e soprattutto particolarizzata assistenza che viene fornita mediante un percorso condiviso col soggetto e soprattutto organizzata in modo tale da ridurre per quanto è possibile le attese. E soprattutto questo permette di mantenere una certa attività che consente al soggetto di poter essere seguito e poter avere un controllo costante della sua disabilità ma soprattutto avere un controllo costante dell'evoluzione della malattia. Il consiglio che posso dare ai giovani medici che intendono intraprendere la carriera di medico reabilitatore e anche di medico magari con specialista in reumatologia, quindi medico reumatologo, il concetto fondamentale che loro devono considerare e mantenere è quello di, o perlomeno l'obiettivo fondamentale, è quello di avere in primis l'attenzione sul paziente e soprattutto l'attenzione sul paziente che deve essere seguito costantemente. Una visita fatta e poi una visita a cui non segue un programma che permette di controllare costantemente il paziente rischia di inficiare l'obiettivo fondamentale che è quello di ridurre sensibilmente la disabilità ma soprattutto di controllare il paziente nelle fasi critiche. Quindi la massima disponibilità per il paziente, l'organizzazione costante e ben articolata che permette di gestire il paziente in tutte le sue esigenze e soprattutto anche l'attenzione a mantenere i contatti costanti attraverso un'organizzazione che consente al medico di poter avere tutte le opportunità sia tecniche che professionali per poter gestire in modo adeguato il soggetto. Quando parliamo di disabilità parliamo di un aspetto particolare. La disabilità che cos'è? La disabilità è la situazione in cui per un particolare problema di tipo sanitario o anche non sanitario comunque non impedisce al soggetto di svolgere quotidianamente la propria attività e il proprio lavoro. È evidente che nel lavoro noi abbiamo una situazione che è critica perché se il soggetto lavora e non riesce a svolgere quotidianamente la propria attività rischia il licenziamento, rischia il declassamento, rischia tutta una serie di problemi che purtroppo vanno anche a ridurre economicamente il suo budget familiare. Per portare avanti questo progetto è importante che ci sia una sensibilizzazione anche da parte del soggetto col datore di lavoro, cioè sensibilizzare i datori di lavoro, che alcune situazioni vanno considerate e soprattutto ci deve essere un aiuto da parte del datore di lavoro al soggetto a superare la propria disabilità anche attraverso una modifica magari dell'impegno di lavoro e questa è una situazione di cui purtroppo non si devono occupare soltanto i sindacati ma si devono occupare tutti coloro che hanno dei dipendenti e che hanno dei dipendenti con problematiche particolari che non sempre vengono considerate come dire utili al svolgimento dell'attività quotidiana ma che possono essere comunque situazioni che possono essere comunque adattate ad altro tipo di lavoro e quindi consentire al soggetto di continuare a lavorare senza avere una situazione critica che può ridurre sensibilmente la sua qualità di vita ma soprattutto anche il suo aspetto economico che ovviamente condiziona o può condizionare negativamente l'attività della vita di questo soggetto.